Giardini e aree verdi di Como, via libera della giunta comunale al progetto in fase unica per la riqualificazione di alcune aree della città. Nel dettaglio si tratta del parchetto di via Crispi, le due aree Cani, di via Dottesio e di via Cattaneo e infine il giardino di via Zezio. Il valore complessivo del progetto predisposto dal settore parchi e giardini del comune di Como è pari a 150.000 euro. L'intervento, come detto, prevede la riqualificazione di alcune aree verdi cittadine, in particolare il parchetto di via Crispi che sarà diviso in due, una zona ad uso dei cittadini con nuovi giochi per bambini e l'altra invece per i cani. Sarà inoltre realizzata una nuova area Cani nel giardino di via Zezio, mentre saranno eliminate quelle di via Dottesio e di via Cattaneo. Negli ultimi due casi i giardini saranno riqualificati e destinati ai cittadini. In tanto inizio mese l'amministrazione ha stanziato 200.000 euro per riqualificare cinque aree verdi della città, dai giardini di Piazza del Popolo a quelli di via Bellinzona a Beccaria fino al via Leggeno. Anche in questo caso l'ufficio parchi e giardini di Palazzo Cernezzi ha redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Gli interventi sono inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024.